Rammarico. Io dovrei essere rammaricato perché ancora una volta è stato disatteso l'obbligo di protezione della salute, della vita. Ancora dunque l'ennesimo schiaffo con questo decreto Salva Ilva che dà l'immunità penale a tutti gli ex gestori di quella che era l'Ilva. Ma io non sono rammaricato, io sono arrabbiato, io sono inviperito, io sono incazzato, inferocito. E allora rivolgo un invito a tutti gli amici, amiche, colleghi, artisti, non artisti, alle famiglie, tutti. Il 25 prossimo febbraio ci sarà a Piazza della Vittoria una grande manifestazione indetta dall'Associazione Genitori Darantini. Ecco, io ci sarò, vengo da Milano, facciamo in modo che ci siano tante, tanta gente, tanti artisti, tanti amici pronti a intervenire. Facciamolo, facciamolo per i bambini. Dalle ore 10 in questa piazza ci sarà questa grande manifestazione che io parteciperò con le mie canzoni, ci saranno altri artisti, dicevo, facciamolo, sosteniamo ognuno nel proprio piccolo questa battaglia di civiltà, facciamolo per i bambini di Taranto. Mimmo Cavallo.